Sale nuovamente a quota 100 il numero di casi a Torre del Greco. Secondo infatti l'ultimo bollettino sono 88 quelli in isolamento domiciliare e 12 gli ospedalizzati. Nella giornata di ieri infatti sono stati certificati 11 nuovi casi di positività al Covid-19 e due nuove guarigioni. Numero in aumento anche in seguito al mini focolaio all'Istituto Giovanni Battista Angioletti. Dai controlli effettuati sarebbero 9 i casi riscontrati nella scuola di via Giovanni XXIII che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche sia della sede centrale che di tutti i plessi nella giornata di oggi per consentire una sanificazione dei locali. Tutti i bambini sono asintomatici e in buone condizioni di salute. Muta così il bilancio della 565 giornata consecutiva di attività del COC, totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 88, totale guariti dal Covid-6783, totale decessi 176. Intanto il rieve risalita è pari a 34 casi per 100.000 abitanti l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale calcolata ieri. È aumentata questa settimana in 17 regioni e province autonome rispetto ai valori registrati nella settimana precedente. Si registra un rieve aumento dell'RT nazionale. Questa settimana quattro regioni risultano classificate a rischio moderato rispetto alle tre della scorsa settimana. Sono Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Delle restanti 17 regioni e province autonome risultano classificate a basso rischio.